Allora la sensazione di una partita così emozionante, come l'ha vissuta? Benissimo, bravissimi, con tensione ma sono stati bravissimi. Grande Perugia, grande Sirra, grande Sirci, grande Umbria. È stato più lo spettacolo in campo o quello che dava il presidente Gino Sirci al bordo campo? Tutte e due, tutte e due.